eccoci di nuovo insieme per la nostra decima puntata di tecno zone allora io oltre che ripetere di ricordarvi di iscrivervi al nostro canale fashion music tv su youtube e comunque di continuare a mandarmi le vostre promo su anella.tecnozone.com vi voglio dire che le altre puntate invece che fare una volta a settimana le faremo una volta ogni 15 giorni quindi questa puntata è stata dedicata a cercare di smaltire alcune vecchie promo che non sono riuscite ovviamente a programmare di solito e comunque sono diminuite le puntate e ovviamente erano veramente molte le tracce da farvi ascoltare io ne ho scelta qualcuna e poi magari ci metteremo d'accordo per come fare per le prossime puntate per riuscire a inserirle il più possibile anche perché il tempo materiale è veramente poco 20 minuti non bastano per farvele ascoltare tutte quindi partiamo subito con la prima traccia di Ramon Vincenzo è Psychical Movement uscita il 17 maggio su Itika Record adesso andiamo ad ascoltarla e poi facciamo i ringraziamenti buon ascolto Fashion Music TV Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Allora, Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. a tutti. Allora, e a tutti. 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 e a tutti.